Ciao ragazzi, io sono Rolly e il mio fratello si chiama Rowan e il nostro acionale si chiama Rorro. Vabbè, andiamo a nascondere, prima di lui viene a disturbarmi. Eccomi qua, ora ci serve la torta... Noi prepariamo la torta di cioccolato, ci serve gli ingredienti, non gli ingredienti, zucchero, burro, limito e la vanilla e limito e poi dobbiamo mettere il fondello che fa caldo e poi il fondello che dobbiamo riscaldare, poi si è preparata la torta. Dai, ci facciamo, dai, ci facciamo. Ok. Meno male che non c'è il mio fratello, così mi prenderò in giro e mamma mi parlerà sempre. Oh, guarda, guardate. Mamma. Ah. Spinge. L'hai messo bene? Ti sa, hai messo male? No. L'hai messo bene, aspettate. Forse l'hai messo male con questa? No, l'hai messo bene. Sì, l'hai messo male. No. Sì. No. Mo' ci prova? Te l'ho detto che fa male. E fa male. No. Attento, no. Devi levare e mettila bene. Aspettate, scusate. Ragazzi, abbiamo un problema per sicuro. Possiamo fare una torta perché si è rotta o qualcosa. O poi ci dovrebbero mescolare con la padella. Con la padella. Farine. Vabbè. Aspetta, ci salutevo mio padre. Sicuramente. Salute. Salute. Ciao. Ecco, abbiamo salutato mio padre. Mio padre è un youtuber anche. Dai, ci serve la torta però. Però non funzionava bene. O poi dobbiamo comprare. Mamma, è un peccato. Ti ho detto tutto. Papà, ma l'ha arrivato da neve. Dad! Aspetta, scusate. Ok, io parlo sempre inglese con mio padre. Dobbiamo sapere se funzionava bene. Ci dobbiamo mettere due ore dopo, un'ora di dopo. Poi dobbiamo mettere qualche minuti. Ci serve. Ci aspettiamo. Oh, oh. Dopo si è scaduto il tempo di video. Ci serve un dopo, io credo. Ma non ci serve un dopo. Vabbè, ci stiamo continuando. Vabbè, abbiamo, ci vediamo questa volta. Ciao, ciao. Ci proviamo un altro video, un altro video. Ci proviamo. Va bene? Ciao, ciao.